Se sei un'impresa, una piccola media impresa che già opera con l'estero o intende operare su nuovi mercati esteri, ti puoi affidare a Confartigianato che in questa circostanza, grazie alle misure straordinarie legislative da decreto Covid, accede a delle formule di finanziamento agevolato che comportano sostanzialmente l'applicazione di un tasso che è vicinissimo allo zero più una quota significativa di contributo a fondo perduto. Queste misure in cosa consistono? Consistono nelle iniziative di Sace Simest che è da sempre l'organismo statale che si occupa dell'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero e nella fattispecie di questa circostanza straordinaria ha messo in campo questi strumenti. Questi strumenti variano dalla partecipazione a mostre fiere, all'inserimento su nuovi mercati, alla consulenza professionale di manager qualificati, quali quelli che sono disponibili attraverso la nostra organizzazione, fino a finanziamenti ordinari cosiddetti di patrimonializzazione, cioè senza scopo, ma ai quali si può accedere semplicemente attraverso il rispetto di alcuni parametri che chiaramente devono essere esaminati in una fase di valutazione preliminare. Tutto questo avviene anche grazie alla sperimentazione già consolidata dell'associazione con Simest, in quanto Confidi Sistema, che è sostanzialmente lo strumento finanziario di Confartigianato, già da qualche anno ha in essere un accordo commerciale con l'ente statale, dove ha già sviluppato dei progetti quali quelli di cui oggi stiamo parlando. La cosa interessante è che rispetto alle misure fino a ieri applicate, con l'intervento di queste misure straordinarie legate all'emergenza, sono venute meno una serie di vincoli e quindi è stato allargato e ampliato l'accesso a queste soluzioni ad imprese che probabilmente fino a ieri non potevano accedervi. Rivolgetevi pure ai nostri uffici per qualsiasi chiarimento, per valutare insieme quelle che sono le soluzioni migliori da adottare.